Atterraggio morbido degna conclusione dell'esperienza di 12 giorni trascorsa nello spazio. Si è concluso così il viaggio del miliardario giapponese che con il suo produttore, un cosmonauta russo, si è regalato l'esperienza più incredibile della vita. Il magnate della moda Yusai Mezzawa ha toccato terra a bordo di una capsula Soyuz russa nelle steppe del Kazakistan. Sono stati i primi turisti a visitare a pagamento la stazione spaziale dal 2009. Una volta che sei nello spazio, raccontato in collegamento con Associated Press, ti rendi conto di quanto valga la pena fare questa incredibile esperienza. Interrogato sui rapporti che sostengono che abbia pagato 80 milioni di dollari per la missione di 12 giorni, Yusai Mezzawa ha detto che non poteva rivelare la somma del contratto, ma ha ammesso di aver pagato più o meno quella cifra.